ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco l'idro lotion body a cosa serve l'idro lotion body a un parafarmaco appartenente alla categoria degli rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi e commercializzato in italia dall'azienda che meia srl informazioni commerciali titolare che meia srl concessionario che meia srl categoria di appartenenza rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi forma farmaceutica lozione confezioni libro lo show body lozione alle erbe per le gambe 50 ml indicazioni lozione tonificante gambe alle erbe a gambe gonfie a gambe pesanti a gambe predisposte alle varici e capillari a cellulite descrizione e caratteristiche lozione idroalcolica idrotonificante per la circolazione delle gambe questo fito complesso all'optimum alcune gocce sotto la pianta del piede e sotto il cavo popliteo sotto il ginocchio danno sensazione di leggerezza immediata consigliata anche in gravidanza e nel trattamento cellulite componenti e ingredienti principi attivi alcol itilico buon gusto 38 per cento ortica menta calendula camomilla e qui seto tiglio lavanda ed era a mamelide lievito di birra mirtillo liquirizia malva ratania salvia china aloe biancospino coriandolo ingredienti water alcol peg 40 propilene glicol nettle extract peppermint extract calendula extract camomilla extract orsita il extract linden extract fragrances lavander oil ivi extract bit case l'extract yast extract bilberry extract licorice extract mallor extract ratani extract sage extract cincona extract aloe ferrox extract crategos extract coriander oil peppermint oil metil cloro isotiazolinone metilisotiazolinone fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato